Bella raga qui DaniFra, prima di lasciarvi il video voglio farvi uno dei miei soliti interventi pre-video e quello che voglio fare in questo intervento è chiedervi la domanda del giorno la domanda è, volete che continuo a fare IndustriCraft nei prossimi episodi quindi utilizzo dei solar panel, maserator, cose del genere o che inizio ad utilizzare la buildcraft e la query per produrre e smistare grazie a Red Power gli item così da poter avere una produzione di item per il futuro e per iniziare a lavorare da altre cose quindi se volete IndustriCraft dite IndustriCraft, se volete BuildCraft dite BuildCraft a voi la scelta, ora vi lascio al video, bella! Bella raga qui DaniFra e benvenuti a questo nuovo episodio di ModCraft con i porco cazzini quindi fortunatamente oggi non ho più tantissima febbre, almeno ne ho abbastanza di meno di ieri e riesco a registrare allora, hanno fatto un aggiornamento del pacchetto, guardate che bello il nuovo, come si chiama, il nuovo menu il nuovo game menu, c'è scritto qui con questa sidebar molto figherrima, potete vedere che anche l'effetto di apertura è piuttosto bello e ho dovuto ricraftarmi una Minimum Stone perché non avevo reinstallato Equipment Exchange a proposito, mi sono messo l'armatura di bronzo perché non solo perché avevo tutti i pezzi possibili per metterla perché ho trovato la chestplate in una cesta e ho trovato anche degli altri dungeon potete vedere che ho il cave spider a tier 3 perché ho trovato dei great wood log che sono questi, dei great wood log scusate che sono degli alberi speciali che hanno uno spawner di ragni e una cesta e ho trovato lì questa ma anche perché l'arancione mi ricorda veramente come in portal come si chiama la ragazza? Cell, no? Cell era di un altro gioco non so qualcuno si ricorda come si chiama la ragazza di portal? scrivetelo nei commenti, io non lo ricordo sì appunto ho dovuto rifare la Minimum Stone perché mi si erano tolti tutte le cose di Equipment Exchange mi sono anche tornato i Shard of Minimum che avevo, ne avevo 48 lo so perché li avevo messi via prima di aggiornare e quello che faremo oggi sarà una cosa molto molto dispendiosa allora come prima cosa voglio trasformare tutto questo ferro qua che sono andato a scavare per farlo in oro e possiamo farlo grazie alla nostra Minimum Stone metterlo 8 così quindi riempire una crafting table o crafting grid la grid di crafting così abbiamo perfettamente 64 gold ingot sono rimasto solo con uno stack di gold qua perché appunto ho preso il resto e con questo stack di gold faremo diamanti che li possiamo fare mettendo così in 4 in un pattern a 4 e possiamo prendere un bel po' di diamanti perché oggi ce ne serviranno un bel po' per differenti cose allora come prima cosa potete vedere che qua ho le EU reader che si fa con 4 copper cable, un electronic circuit e una glowstone dust e questo ci permette di leggere quanta energia sta passando in un filo di industrial craft e a proposito ho messo qua a fare dei vile di corrupted ingot perché voglio fare un'altra spada perché questa è praticamente rotta perché mi avete detto voi che per avere il prendere 5 soul quindi 5 anime con una vile sword serve un enchant che si chiama soul sealer sì ok e ho trovato dov'è looting 3 guardate che figata adesso potremmo utilizzarla in qualcosa speriamo bene perché non voglio sì perfetto soul sealer 4 ok e sono un attimo in peaceful perché appunto voglio prima uccidere queste mucche vediamo sono a 536 se uccido questa uh 541 che figata fuck yeah lo faccio molto più in fretta così oh sono già oh mio dio sarà dovevo fare la prima sta cosa sarei già tipo uno oh mio dio ah dovevate dirmelo prima no vabbè scherzo è colpa mia che non lo sapevo dovevo studiarmelo a proposito ho spostato tutta l'energia o la maggior parte dell'energia che avevamo nel badbox vediamo dovrebbe essercene un altro può ora un può può ho detto ok spostiamola tutta l'ho spostata lì dentro perché oggi faremo un piccolo aggiornamento toglieremo il badbox metteremo un mfe per quello ci serve molti diamanti come ho già detto per craftare un mfe che è praticamente la versione più potente di un badbox ci servirà un machine block 4 energy crystal e dei doppio insulated quindi insulated per 2 gold cable che si fanno con rubber insulated gold cable e il gold cable insulato si fa con 4 di rubber e un gold quindi ce ne serviranno 4 quindi 1 più 4 più altri 4 quindi dovrebbero essere abbastanza andiamo così questo trasformiamo così poi prendiamo questi 4 li mettiamo insieme ecco qua perfetto poi cos'altro ci serve degli energy crystal 4 che sono della redstone intorno a dei diamanti come ve l'ho detto ce ne sarebbe servito un bel po' di diamanti quindi ce ne servono 4 32 di redstone e ho fatto un po' di mining per quello così tanto redstone per chi se lo stesse chiedendo ok diamanti al centro ok 4 perfetto cos'altro ci serve ah a proposito ecco prima che andiamo avanti qua ho dei glass fiber cable che si fanno con vetro silver e diamond diamanti sono i cavi più potenti o i più utilizzati perché perdono pochissima energia perdono dell'energia ogni 40 blocchi quindi è veramente poco e hanno la resistenza più alta di tutti quindi io voglio togliere non solo la batbox ma voglio anche andare a togliere quei cavi lì sopra e voglio mettere questi cavi ne dovrei fare un po' di più però non volevo sprecare i diamanti quindi uh va bello giusto dopo qua perché appunto non avevo ancora fatto i diamanti con quello e dovremmo utilizzare un po' un altro po' di questi perché appunto ce ne serviranno perché abbiamo 5, 10 11, 12 lasciamo lo prende ok e appunto voglio fare questa cosa perché ho visto che stiamo sprecando un bel po' di energia perché i cavi che avevamo prima che erano quelli di tin perdono energia ogni 5 blocchi quindi quelli che erano qua perdevamo l'energia e stavamo salendo di energia molto lentamente era una cosa non possibile da portare avanti vediamo se vediamo se riesco a fare dell'altro fiber cable che è quello che vi ho appena fatto vedere silver e c'è anche un altro crafting per quelle cose per quello che al posto del silver richiede la redstone per quello ho sbagliato a prenderla che però invece di dare 6 ogni craft ne da 4 quindi è meglio usare silver visto che ne ho tanto ok 2 diamanti e questi dovrebbero essere abbastanza a proposito questi li sposterò prima o poi non li lascio qua perché voglio iniziare a separare tutte le stanze non le ouch non le voglio tutte insieme e a proposito questo fatto che devo continuare a fare su e giù su e giù per andare in giro per la casa mia per esempio adesso che devo fare su e giù qua per per non cadere andremo a craftare oggi una cosa se abbiamo tempo per sistemare questo problema che si chiama jetpack potrete capire cos'è dalla parola un jetpack è un jetpack beh davvero ok sono un po' incasinato vediamo cosa mi serviva un machine block e basta per il resto tutto si ok quindi iniziamo a montare questo nostro MFE e un MFE se non sbaglio può contenere 600.000 si o 400.000 non ricordo ferro 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 andiamo a cucinarlo e intanto che si cucina vediamo il crafting per il jetpack jetpack ci sono due tipi di jetpack il jetpack normale e l'electric jetpack quello normale usa del fuel quindi del liquido gas no del liquido gassoso sono proprio un genio del gas no non del gas della benzina ecco invece quello elettrico usa elettricità e può essere ricaricato quindi ci servirà 4 refined iron un batbox 2 glowstone uh allora questo batbox che abbiamo ci sarà utile non devo buttarlo via però mi serve altro refined iron esatto quindi altre 5 refined iron e cos'altro serviva un advanced circuit che è un electronic circuit più 2 lapis 2 glowstone e 4 redstone nulla di così difficile esatto erano 4 redstone esatto ok vediamo se ci ha finito di andare avanti questa cosa qua ok ora possiamo continuare il nostro crafting dell'mfe e l'mfe è identico al batbox solo che può contenere più energia tutto lì eh visto che stiamo usando l'mfe e ovviamente sta roba non mi vuole lasciar saltare facciamo così lo metto un blocco più in alto ci servirà un convertitore di energia perché l'mfe emette energia troppo alta per le nostre macchine qua quindi qui metterò un convertitore di energia e poi connetterò le macchine così quindi abbiamo un setup piuttosto perfetto qua però ovviamente non potremo mettere un come si chiama una macchina qui sopra diretta perché appunto forse sì 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 possiamo mettere mettiamo l'output per sopra e ci serve un low voltage vol magari è tutto attaccato low no ah lv forse tra lv eccolo lì l'ho trovato lv transformer si fa con 4 legno 3 copper e 2 copper cable ok non è di difficile vediamo se ci ha fatto questo ferro ok possiamo fare quello che ci serve allora ci serviva un electronic circuit che sì ne ho già uno lì però me ne serve altro e mi serve dell'altro copper cable sono senza prendiamone un bel po' allora facciamo 12 12 più tutta la rubber che ho più 4 legno che mi servirà ok e facciamo un bel po' di copper cabling no mi serve altro copper ora ho dimenticato che mi ne serviva in più ok e craftiamo un altro electronic circuit dovremmo avere abbastanza cose cosa ci manca ah l'ho messo qui il copper cable ok giusto uno e il jetpack quindi questo due no prima dobbiamo fare il advanced electronic circuit che se non sbaglio era così no ci serve altre redstone altre redstone e altre glowstone uno due uno due ok ho preso un po' di più di redstone ma non fa male uno due tre quattro e se non sbaglio qui advanced circuit eccolo qua perfetto poi cosa andavo cerchiamo jetpack eccolo qui uno due tre quattro e la glowstone sotto perfetto e il batbox al centro perfetto il nostro jetpack lo possiamo mettere a ricaricare nel nostro MFE che si sta caricando piano piano però voglio mettere il mio batpack per passare tutta l'energia che avevo preso di nuovo lì dentro e intanto craftiamo il nostro low voltage transformer che era così esatto penso di sì uno dammi questo un due tre low voltage transformer piazzemolo qua un attimo potete vedere che c'ha tutti i lati con un punto tranne uno che è quello piazzato diretto davanti alla torcia che ha tre punti quello con tre punti è l'input sì è l'input quindi dove entrerà l'energia più alta e tutto il resto sono gli output quindi dove uscirà l'energia più bassa questo funziona per ogni macchinario o per ogni transformer dovrei dire vediamo proviamo a fare qualcosa con i macchinari vediamo se funzionano non ho niente da fare comunque voglio farvi vedere come funziona l'eutransformer potete vedere perché ora lì dice che non sta uscendo energia perché non stiamo facendo nulla ma se io vado e prendo non so qualcosa che è compressabile vediamo cosa si può compressare penso al legno non so cosa che si può compressare prendiamo no non c'ho cross traction foam prendiamo della sabbia vediamo se abbiamo della sabbia ora possiamo fare piuttosto in fretta ok la craftiamo con la nostra amatissima minimstone se ci lascia eccola lì e ora se la mettiamo nel compressor dovrebbe farci della sandstone questa non ci serve però è solo per mostrarvi e potete vedere che adesso ci dice quanta energia sta prendendo ogni tick in un average quindi sta utilizzando due energia ogni tick quindi abbiamo un setup che funziona perché potete vedere che l'energia ce l'ha ancora ora fatemi chiudere qui perfetto e posso mettere una macchina dappertutto tranne qua ok perché c'ho questo qui no forse potrei perché non non output dall'alto esatto ma non si sa mai quindi non metto nulla ok ora l'unica cosa che ci rimane da fare è riprendere il nostro jetpack eccolo qui e anche questo e vi voglio mostrare come funziona il jetpack andiamo fuori proviamolo in poche parole ci lascia volare però non è come il volo della creative se io mollo lo spazio potete vedere che cado e non prendo danno da caduta perché abbiamo fatto quelle scarpe super potentissime della portalgan quindi bene bene abbiamo una combinazione piuttosto buona in questo episodio volevo iniziare a fare la query solo che appunto volevo fare questi update al mio sistema prima di andare avanti e nel prossimo episodio cosa faremo beh inizieremo a lavorare ai solar power al solar power si ok solar panel ce ne sono moltissimi dal dal normale solar panel all'ultimate hybrid solar panel che è il nome epicissimo però partiremo da questi a cui serve dell'electronic circuit un generator del coal dust che si fa macerando il coal e del vetro praticamente come funzionano i solar panel prendono energia dal sole difficile no? ok vediamo quant'è uh 586 benissimo stiamo andando avanti molto in fretta grazie a chiunque o a tutti quelli che mi hanno detto che si poteva fare con l'inchent e sono stato piuttosto fortunato che ho avuto l'inchent al primo colpo o forse è una cosa che succede sempre e io sono solo fomentato per nulla ok prima di salutarvi voglio farvi una domanda porvi una domanda è una delle mie solite domande a scelta o questa o l'altra anzi questo me lo tengo con me cosa volete che faccio prima la query che richiede altro buildcraft quindi dovremo lavorare ancora con buildcraft o volete che continuo industrialcraft e qualcosa riguardate industrialcraft quindi dite nei commenti se preferite industrialcraft o buildcraft questa domanda probabilmente la aggiungerò dopo in editing anche all'inizio del video solo per appunto dirvela mi dispiace che l'episodio è un po' più corto del solito ma come ho già detto da ieri sto un po' male su un malaticcio forse si sente anche nella voce ma penso che per domani dovrei stare meglio anche se oggi almeno riesco a parlare e niente per questo episodio è tutto ricordatevi lasciare mi piace di rispondere alla domanda e niente con questo vi saluto la raga qui danni fra